salve amiche ed amici dopo il video di questa mattina beh sì questa mattina credo va bene ma chi se ne frega di quando era tanto forse l'avete visto no non l'avete visto del peccato guardatelo tratta di il mio grande regalo di natale quello che mi piacerebbe ricevere se non fossi disoccupato quello che farete chissà però adesso voglio registrare questo video per dirvi della notizia di cui volevo parlarvi ieri infatti cuba stati uniti di scello tra i due paesi barack obama todo somos americano che avrà voluto dire che tutti sono americani come lui e riapertura delle reciproche ambasciate viaggi e transazioni di denaro più facili tanto già quelli che vivevano in florida soprattutto mandavano i soldi e familiari in cuba adesso sarà più facile magari che cubani mandino i soldi e i familiari in maieni perché perché tutto questo tempo c'è più disoccupazione adesso negli stati uniti che non a cuba infatti gli stati uniti stanno scongelando le relazioni con cuba perché non vogliono perdere contro la concorrenza cinese russa ed europea in cuba via libera all'export da di usa infatti questo lo chiedevano da decenni gli industriali nord americani di poter vendere ai cubani cancellazione di cuba dalla vista dei paesi fiancheggiatori del terrorismo e di quali terrorismo parlano scusa come se il castrismo avesse avuto influenza nel mondo non è ancora la fine dell'embargo ma l'annuncio in diretta tv di barack obama concluso con una frase già destinata a restare nella storia solo solo americano segna l'avvio di una nuova fase delle relazioni tra i due paesi infatti lui vorrebbe che tutti gli abitanti delle americhe fossero americano scomi nord americano una nuova fase il cui approdo naturale ha lasciato intendere il presidente usa sarà la fine del blocco commerciale che grava sull'isola da oltre 50 anni era stato istituito con le migliori intenzioni cioè quelli di far far farire lo stato cubano ma non è stato efficace ha detto obama un nodo che resta comunque ancora da sciogliere come ha spiegato il presidente cubano raul castro secondo cui il passo in avanti nelle relazioni tra i due paesi non significa che il problema principale l'embargo economico sia stato sciolto non è esclusa una visita del presidente americano barack obama cuba lo afferma il portavoce della cassa bianca johns ernest beh come dire tutti ieri a dire o questo ci coglie di sorpresa caramba e invece no perché erano decenni che io anche quando non c'era internet ragazze ragazzi di oggi che mi seguite perché molti di voi sono giovani ma io ho 46 anni e quindi già negli anni 80 che si ascoltava per quel poco che i mass media lo dicevano che molti industriali nord americani volevano aggirare queste riba questo embargo infatti che facevano quello che hanno fatto adesso quelli del governo degli stati uniti si sono rivolti ai canadesi immaginatevi voi non hanno partecipato i paesi latino americani nella trattativa non ha partecipato la lega dei paesi americani non ha partecipato europa india cina russia sudafrica la lega araba soprattutto il marco sur i soli interventori nell'accordo con cuba con raul castro sono stati barack obama per gli stati uniti e dei rappresentanti soprattutto dell'ambasciata del canada e rappresentanti economici degli interessi economici del canada questo ci fa pensare che siano stati soprattutto siano state soprattutto le lobby nord americani a premere per un accordo commerciale con castro perché temono che se cadono il castro continuerà la resistenza anticapitalistica a cuba e quindi è stato più un accordo poi ci mettono il papa di mezzo come hanno messo voi di là con la faccenda di solidarnosc e della liberazione di polonia dal comunismo ma in realtà è stata una cosa un accordo con washington fra solidarnosc e gli stati uniti il vaticano si è messo di mezzo per facilitare la transazione di denaro che nel mezzo ci sono del vaticano che ha transato il denaro fra stati uniti e polonia c'è stato tutta quella faccenda dello york del banco ambrosiano delle trasferenze di denaro del sindona della p2 liceo gelli e tutto quello ma il vaticano ha fatto pratica da banchiere con noi or tra stati uniti e polonia contro il blocco comunista adesso il vaticano non so che ruolo economico abbia avuto credo nessuno perché di mezzo c'è stato il canada per quello infatti gli impresari europei e nord americani quando volevano negoziare a cuba si rivolgevano ai canadesi o ai canadensi però il papa fatto da intermediatore morale come per dire bravo è stato merito suo che ha messo una parola che adesso i cubani riescono a dialogare con i nord americani perché anche seate i comunisti ha toccato le loro coscienze invece non è così sono stati canadesi che hanno intermediato consolarmente con le loro ambasciate per ragioni economici economiche per ragioni economiche e poi va bene ci mette la faccia il papa dicendo che ha fatto una premiera per la pace nel mondo come il papa che ha intermediato il giovanni ventitresimo per la questione dei missili russi a cuba se non mi sbaglio era coltata ma vabbè poi tutti quanti hanno chiamato il papa e si sono messi in pace ma in realtà le trattative sono state altre hanno fatto le trattative grazie anche alle prove satellitari che avevano gli stati uniti dei missili russi a cuba quindi adesso ci vogliono far credere che soprattutto riaprono le relazioni consolari e diplomatiche per faccende culturali ci sono solo degli interessi economici indietro d'altra parte io lo so che cuba già si era aperta economicamente negli anni 80 a europa io sono andato nell'ottantadue fra i primi italiani quando cuba si è aperto a fare le vacanze a cuba quindi pratica anche se c'era l'imbargo e non embargo solo per gli industriali nord americani perché noi europei potevamo andare a fare le vacanze addirittura aprire delle imprese poi ci sono andati canadesi che non hanno mai rispettato l'embargo contro cuba se per questo i canadesi neanche rispettano l'embargo alla faccia degli stati uniti contro l'iran e poi che succede che gli industriali e gli imprenditori nord americani per aggirare l'embargo degli stati uniti che dovevano fare dovevano aprire delle imprese fuori dagli stati uniti in canada così erano imprese canadesi con capitale stati unitensi con tecnologie stati uniti e con prodotti statunitensi perché molte volte non andavano a produrre in canada andavano avere delle società di facciata di copertura per vendere gli stessi prodotti che gli avrebbero potuto vendere dagli stati uniti quindi facevano commercio col canada molti negli stati uniti contravenendo l'embargo fumavano dei contrabbando i sigari originali avana quelli di cuba perché poi c'erano altri marchi sempre avana prodotte fuori da cuba le famiglie cubane scappando dal comunismo che hanno le fabbriche di room di sigari fuori da addirittura in florida ma non era l'autentico avana o l'autentico rom quindi gli statunitensi hanno da sempre più di 50 anni fumato l'autentico avana cubano dell'havana e bevuto l'autentico rom alla faccia dell'embargo degli stati uniti che dovevano rispettare soltanto gli industriali statunitensi e presuntamente il resto del mondo ma c'è da gli anni 80 cuba sapere da tutto il mondo ed è entrato un mucchio di capitale adesso perché gli stati uniti hanno fatto questo innanzitutto perché l'onu ha votato contro l'embargo e già questo ti fa capire che gli stati uniti non hanno più rappresentazione nell'onu perché solo dieci o venti anni fa nessuno si sarebbe sognato di votare contro l'embargo degli stati uniti invece adesso si direbbe che molti paesi votano contro le risoluzioni degli stati uniti nell'onu l'onu sta diventando uno strumento sempre meno controllato dagli stati uniti e sempre più controllato da cina cina russia india addirittura paesi latinoamericani come brasile e sudafrica e anche europa quindi se tutti i paesi si coalizionano contro israele stati uniti per esempio si arriverà a riconoscere finalmente palestina perché l'onu le nazioni unite hanno riconosciuto l'esistenza di israele e quindi l'onu può anche riconoscere l'esistenza della palestina siccome adesso il vetro degli stati uniti di israele non conta più e siccome cina non volta più come mi dice gli stati uniti perché sono più forti possono anche votare contro il voto degli stati uniti russia anche adesso conta di più gli stati uniti stanno diventando in influenti e nell'onu allora siccome non riescono a originare a bloccare cuba loro che hanno pensato bene di aprire le relazioni con cuba e magari obbligandoli a firmare qualcosa tipo l'alca che hanno fatto firmare a messico e canada in modo da avere l'esclusiva nelle relazioni commerciali perché sennò oggi la geopolitica non passa più per invasioni territoriali e missili termonucleari ma passa per invadere le sfere di influenza commerciale se gli stati uniti non si affrettano a occupare con le loro relazioni commerciali e diplomatiche cuba ci penseranno russi andare a cuba così come in pratica si stanno alleando dei venezuelani e gli stati uniti vorrebbero controllare venezuela per il petrolio ma intanto putin è arrivato prima degli stati uniti e anche i cinesi vorrebbero avere relazioni commerciali con i cubani così come le hanno con i venezuelani e con molti latinoamericani con il mare di mercosur quindi per quello che gli stati uniti adesso vogliono perdere tempo perduto tempo perso perché si rendono conto che se no arrivano al giorno d'oggi che hanno più influenza più potere russi e stati uniti no stati uniti rimangono fuori russia cina e l'india e anche europa sudafrica un'altra regione e perché vogliono attuare obama ha detto l'embargo l'abbiamo fatto per giuste ragioni non ce ne sentiamo di averlo fatto negli ultimi 50 anni ma non ha dato i suoi frutti i frutti erano che volevano far fallire lo stato socialista comunista di fidel castro ma adesso hanno scelto una strana strategia per farlo non è che adesso si sono resi come l'unione sovietica di miha il coraggio è fallita proprio perché lui volendola rinnovare con la perestroika e la classe che ha fatto la perta al commercio internazionale e soltanto facendo entrare tre prodotti dagli stati uniti la schiuma da barba le gilet e jeans ha accumulato più di 50 milioni di dollari di debito o 50 miliardi di dollari di debito quindi che è successo che la russia è collassata l'unione sovietica sotto il peso dell'apertura economica occidente questo gli stati uniti lo sapevano e infatti la gente per esempio della germania dell'est quando poteva andare dove andava nel senso per comprarsi giocatori sessuali e video porno e in russia compravano schiuma da barba lamete e gilet elettriche tutta la pacotaglia commerciale occidentale jeans calze di seta si sono indebitati per miliardi di dollari e poi gli elsin ha obbligato gormaccio a firmare la risoluzione che scioglieva il partito comunista che siccome governava stava il governo si è sciolto il governo e se sciolta l'unione sovietica quindi hanno fatto con la sara e russia come dire con l'apertura economica al liberalismo al neoliberalismo occidentale adesso si sono rendersi conto che innanzitutto per cuba sera già aperta sola al mercato occidentale dell'unione europea e si stava per aprire anche a russia e cina i cinesi sono rimasti in teoria comunisti ma un comunismo molto ultra neoliberale che sarebbero entrati cinesi e russi in cuba gli stati uniti sarebbero rimasti tagliati fuori che quella è una zona molto importante geostrategicamente parlando e quindi hanno voluto occupare di nuovo una posizione strategica come hanno mantenuto da sempre prima dell'arrivo del comunismo perché già nel 1890 e passa l'ingerenza degli stati uniti era molto forte in cuba la stessa ingerenza che poi hanno esercitato nelle hawaii che hanno finito per occupare e nelle filippine che hanno finito per occupare che le hawaii e le filippine erano colonie spagnole soprattutto le filippine lo so ma le hawaii non lo so e allora che dire e poi l'altra questione e che vogliono colonizzare commercialmente cuba in modo da indebitarli perché certo vivevano morendo di fame in cuba sotto il comunismo che ancora c'è però c'hanno un'economia che sempre di più si è modernizzata prendendo denaro fresco da europa soprattutto e da imprenditori statunitensi che andavano attraverso il canada a vendere oa fabbricare e allora che vogliono che aumenti la relazione commerciale con l'estero di cuba soprattutto con gli stati uniti in modo da generare guadagni per gli stati uniti e perdite per il sistema il regime castrista e poi magari cambia regime perché vedono che troppo rigido sclerotico non lo so e questa è stata la mia impressione di una notizia che volevo dare ieri perché stata primizia ieri per me sono queste le ragioni per cui gli stati uniti si aprono alle relazioni diplomatiche con cuba perché innanzitutto vogliono riconquistare una posizione adesso che il mercosur e i caraibi si relazionano con sempre più maggiore intensità con cina e russia che sono le potenze che stanno subentrando la hegemonia nord americana nel mondo e poi perché vogliono indebitare regime castrista pensando che non ha le dinamiche economiche e socioculturali come per arrancare e poi un'altra cosa che al limite e succederà come in russia che è caduto il regime sovietico ma tutti nei suoi punti nera un ex agente direttore del kgp e i suoi erano tutti funzionali sovietici quindi vai a vedere i politici a livello nazionale e regionale provinciale tanto di russia in sé come di tutta la confederazione di stati indipendenti csi la maggior parte di loro anche se sono molto giovani ci avevano già un posto nella burocrazia sovietica nella politica sovietica quindi che è cambiato nulla l'orientazione politica del paese economica però tutta la classe politica e sovietica in russia lo stesso succederà a cuba se si adatta a questo cambiamento cuba che diventa competitiva rimarranno il castro dal potere i loro eredi e tutta la classe dirigente non si rinnoverà ma rimarrà al potere rinnovando solo la forma di amministrarlo quindi alla fine riusciranno a avere un partner commerciale nuovo agli stati uniti oppure riusciranno a far fallire l'isola una delle due cose gli va sempre bene agli stati uniti allora questa è stata una mia nuova opinione una opinione geopolitica come già ne ho fatte altri con rispetto alla crimea e all'ucrania e però non ne faccio molte e vi lascio mi raccomando guardate il video che ho caricato questa mattina sui regali di natale e spero di fare altri video ciao dal vostro sante cian non via non mi abbandonate non mi lasciate solo guardate tutti i miei video mi raccomando che ne farò di altri ma io faccio il video soprattutto perché voi lo guardate quindi guardate tutti i miei 460 passa di video e fa di riguardare i vostri amici contatti parenti familiari anche se avete dei nemici fatti riguardare loro magari per dispetto per picchia per cattiveria e io farò nuovi video a frappe ciao fatemi guadagnare 100 dollari da youtube vi prego